Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Christopher Wilder nasce a Sydney, in Australia, nel 1945. Sua madre è una nativa australiana, suo padre un americano, ufficiale della marina. La nascita di Christopher ha subito presentato delle complicazioni. È sopravvissuto a malapena, sembrava spacciato, tanto che un prete gli aveva anche dato l'estrema unzione. Ma le sventure per lui non sono terminate. A due anni Christopher quasi annega in una piscina. All'età di tre anni, invece, i suoi genitori hanno conferma che è un bambino dalla salute cagionevole, soffre infatti di convulsioni che lo portano a svenire. Ciò nonostante, la sua infanzia sembra normale. Christopher si mostra abbastanza tranquillo fino all'adolescenza. Poi, nel 1962, all'età di 17 anni, inizia a coltivare un'abitudine malsana, sbirciare dalle finestre nella speranza di vedere qualche donna che si spoglia. Tra il 1962 e il 1963 si rende partecipe di un'azione ancora più molesta. Prende parte a una violenza intima di gruppo esercitata ai danni di un adolescente sulla spiaggia di Sydney. Siccome si dichiara colpevole, Christopher viene condannato a un anno di libertà vigilata da integrare con delle consulenze di supporto psicologico e con la terapia dell'elettroshock. Eppure, piuttosto che aiutarlo, sembra che questa terapia abbia alimentato le sue fantasie violente. Christopher inizia a sentire il bisogno irrefrenabile di dominare le donne, di trattenerle contro la loro volontà. Tuttavia a 23 anni si sposa, anche se la sua giovane moglie lo lascia dopo appena una settimana dalle nozze. La ragazza ha scoperto soltanto ora le oscure fantasie del marito e soprattutto quella sua grande passione per scattare fotografie. Già, i soggetti fotografati non sono i panorami, ma le donne. Tante donne senza veli. Nel 1969, ormai divorziato, Christopher si dirige in Florida e si stabilisce a Boynton Beach. Grazie al boom edilizio consegue un grande successo economico. Christopher, che lavora in questo campo, acquista una bella casa, una barca e delle auto. Sembra che abbia tutti gli elementi per diventare un playboy di successo. Poi, nel 1971, viene denunciato dalle autorità locali per aver tentato di convincere alcune donne a posare senza veli per lui. La sua sanzione si concretizza in una semplice multa. Christopher a questo punto decide di tenere un profilo basso per un po', ma in verità non riesce proprio a stare lontano dai guai. Infatti, poco tempo dopo, porta una studentessa delle scuole superiori in una casa che sta ristrutturando e la costringe a soddisfarlo con delle pratiche orali. La studentessa lo denuncia, dunque Christopher subisce un processo. Spiega al giudice che sente il bisogno di procurarsi piacere due volte a settimana, immaginando di violare intimamente una ragazza. I medici lo esaminano e stabiliscono che necessita di una supervisione. Tuttavia, la giuria assolve Christopher. Arriviamo al 1974, quando Christopher si avvicina a due ragazze in un centro commerciale, fingendosi un fotografo. Tenta di attirarle con la scusa di offrire loro un lavoro da modella. Una delle due ragazze acconsente e si allontana con lui. Christopher la obbliga ad assumere delle sostanze e poi abusa di lei nel retro del suo furgone. Anche in questo caso Christopher viene processato, ma gli permettono di patteggiare per ottenere la libertà vigilata. Nel 1982 viene accusato di aver rapito due ragazze di 15 anni durante un viaggio verso casa, cioè verso l'Australia. Ha costretto le malcapitate a posare nude su una spiaggia, le ha legate in posizioni servili, si è toccato per soddisfare il proprio piacere e poi le ha lasciate andare. I genitori di Christopher pagano la cauzione e il figlio può tornare in Florida in attesa del processo. La data dell'udienza iniziale, ascoltate bene, viene finalmente fissata per l'aprile del 1984. Ebbene, il 26 febbraio del 1984 scompare un aspirante top model di nome Rosario Gonzales. Rosario è una bella ventenne che lavora come modella al Gran Premio di Miami. La ragazza, tra l'altro, conosce già Christopher in quanto aveva posato per lui. I testimoni presenti sulla scena della sparizione raccontano che verso mezzogiorno Rosario si è allontanata con un uomo più grande di lei e non è mai tornata, neanche per ritirare il compenso per la giornata di lavoro. Il 5 marzo del 1984 scompare un'altra giovane donna, la 23enne Elizabeth Kenyon, insegnante di sostegno, finalista di Miss Florida ed ex principessa dell'Orange Bowl. Anche lei conosce Christopher, era già uscita con lui. Elizabeth abita vicina ai suoi genitori, infatti ogni fine settimana li va a trovare. Parte da casa sua a Coral Gable fino ad arrivare da loro a Pompano Beach. La madre e il padre di Elizabeth l'hanno vista per l'ultima volta, il 4 marzo. In quell'occasione, pensate, hanno guardato un servizio televisivo sulla scomparsa di Rosario Gonzales. La famiglia Kenyon assume un investigatore privato per cercare Elizabeth, il quale scopre che, di recente, la ragazza è uscita con tre diversi uomini. Uno di loro era il suo ex fidanzato, Christopher Wilder. Christopher in passato aveva persino proposto a Elizabeth di sposarlo, ma lei aveva rifiutato titubante per la grande differenza d'età. In effetti, proprio il 4 marzo, Elizabeth aveva detto ai suoi genitori che Christopher le aveva procurato diversi lavori da modella. Christopher, dal canto suo, afferma di non vedere Elizabeth da più di un mese. Le indagini a questo punto si arenano, fino a quando due addetti della stazione di servizio locale, dove Elizabeth andava spesso a fare rifornimento, ricordano di averla vista il 5 marzo. Anche in quell'occasione la ragazza si era fermata per fare benzina quando un uomo su una Cadillac grigia, che guidava dietro di lei, le aveva pagato il pieno. L'uomo, infatti, viene identificato come Christopher Wilder. Secondo i due testimoni, Elizabeth ha raccontato che erano diretti all'aeroporto, anche se non aveva fatto le valigie, né detto a qualcuno che se ne sarebbe andata. La sua macchina viene poi ritrovata all'aeroporto internazionale di Miami. L'investigatore privato assunto dai Canyon si interfaccia anche con le autorità di Boynton Beach e scopre che Christopher ha alle spalle parecchi precedenti per reati intimi. Il 13 marzo 1984 Christopher compie 39 anni. Il 16 marzo il Miami Herald riporta che un ricco appaltatore, pilota di auto da corsa, è sospettato delle sparizioni di Rosario ed Elizabeth. Quel giorno Christopher ha appuntamento con un consulente, il quale gli chiede se abbia davvero a che fare con le sparizioni, ma lui nega. Il 18 marzo però l'uomo compie alcune mosse sospette. Abbandona i suoi cani in un canile e ritira quasi 50.000 dollari dalla sua banca. Al suo socio in affari spiega che è stato incastrato, era un'ingiustizia, dunque non sarebbe mai andato in prigione. Poi sale sulla sua auto e parte. Il 18 marzo 1984 la 21enne Terry Ferguson va a fare shopping nel centro commerciale Merritt Square, vicino casa a Satellite Beach, che si trova a circa due ore di distanza dal luogo in cui Christopher era fuggito. Quando la ragazza non rientra a casa, il patrigno riesce a localizzare la sua macchina, che si trova nel parcheggio del centro commerciale. A distanza di un'ora dall'ultimo avvistamento di Terry al centro commerciale viene chiamato un carroattrezzi. C'è un'automobile rimasta bloccata nella sabbia in una strada statale, quella di Christopher Wilder. L'uomo sostiene di essersi perso e paga il carroattrezzi con la carta di credito che aveva rubato al suo socio in affari. In realtà poco prima si è diretto in un canale infestato dai serpenti, per uno scopo ben preciso. Il 20 marzo 1984 Christopher si sposta a Tallahassee, dove rapisce anche la diciannovenne Linda Grover, vicino alla Florida State University. Come Terry anche Linda sta facendo acquisti quando Christopher le si avvicina. La convince ad accompagnarla alla sua macchina dicendole che, con quella avvenente chiama bionda, potrebbe aggiudicarsi una foto da pubblicare sulla copertina di Vogue. Una volta arrivati al suo veicolo, Christopher la bastona, la rapisce e si dirige verso nord, in Georgia. Durante il viaggio si ferma un paio di volte per legare e bendare Linda, poi lei infila nel portabagagli, fino ad arrivare a Bainbridge. Qui si registra in un motel, prende la ragazza dal bagagliaio, a volte in una coperta, ed entra tranquillamente in camera. Christopher fa violenza su Linda più volte, per poi folgorarla con dei cavi elettrici. Dopodiché prova a strangolarla. A un certo punto, però, Christopher viene distratto dalla televisione, così Linda ne approfitta per entrare nel bagno. Chiude la porta a chiave e inizia a urlare, picchiando con i pugni sui muri, sperando di svegliare gli altri ospiti. Preso dal panico, Christopher afferra le proprie cose e i vestiti di Linda e scappa in fretta e furia. Linda aspetta più di mezz'ora prima di uscire dal bagno. Avvolge il proprio corpio in un lenzuolo, visto che Christopher si è portato via anche i suoi vestiti, e poi corre nell'ufficio del direttore. La ragazza dimostra di essere un'ottima testimone, in quanto ricorda perfettamente l'auto del suo rapitore e il suo aspetto. Dato che Christopher aveva utilizzato la sua patente di guida della Florida per registrarsi al motel, viene rapidamente identificato e le autorità emettono subito un mandato d'arresto. Ciò nonostante, Christopher riesce a dirigersi verso ovest, lasciandosi la Georgia alle spalle. Arriviamo al 21 marzo 1984, quando la 24enne Terry Walden, un'infermiera di Beaumont in Texas, racconta al marito una storia davvero strana. Un uomo più grande con la barba le si è avvicinato per proporle di fare da modella per lui. L'ha incalzata, chiedendole di accompagnarlo nella sua auto, dove le avrebbe fatto vedere qualche foto che già aveva scattato. Terry però si è rifiutata, chiedendo all'uomo di lasciarla in pace. Due giorni dopo, il 23 marzo, Terry scompare. Un'amica la vede verso le 11.30 di quella mattina, dopodiché le sue tracce si perdono. Nessuno ha più visto Terry e non si trova neanche la sua macchina. Quello stesso giorno, il 23 marzo, un cadavere femminile viene recuperato in un canale invaso dai serpenti a 70 miglia a ovest di Satellite Beach. Viene identificato. Appartiene a Terry Ferguson. Il giornale locale diffonde la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Terry. È un testimone, si fa avanti, e riferisce che l'aveva vista parlare con un uomo più grande il giorno in cui era scomparsa. Esaminando le foto segnaletiche senza alcuna esitazione, il testimone indica Christopher Wilder. Il 25 marzo del 1984, Christopher si trova a Oklahoma City, dove rapisce un'altra donna, Suzanne Logan, di 21 anni, avvicinata anche lei in un centro commerciale. Suzanne, prima di recarsi lì, ha dato un passaggio al marito che doveva andare al lavoro. L'uomo, quando la moglie, in serata, non va a riprenderlo, denuncia subito la sua scomparsa. Christopher porta Suzanne nel Kansas e si ferma in un motel a Newton. La donna subisce una terribile violenza intima, Christopher la tortura, le taglia i capelli e lascia alcune ciocche nel cestino della stanza. La mattina del 26 marzo, dopo la colazione, Christopher si reca al Milford Lake, il più grande lago artificiale del Kansas. Lì pugna la morte Suzanne per poi abbandonare il suo corpo sotto un albero. La vittima viene trovata un'ora dopo la sua morte. Lo stesso giorno, sia il 26 marzo 1984, il corpo di Terry Walden, l'infermiera di Beaumont, Texas, viene recuperato mentre galleggia faccia in giù in un canale. La donna è completamente vestita, le sue braccia sono legate da una corda, la bocca è coperta dal nastro adesivo. È stata coltellata più volte, ma non ci sono prove che abbia subito violenza intima. A questo punto vengono assegnate al caso ben 40 detective e anche l'FBI subentra nelle indagini per catturare Christopher. Scoprono che in effetti aveva soggiornato in un motel vicino a Beaumont, Texas. Per il pagamento, aveva usato una carta di credito a nome del suo vecchio socio d'affari. La macchina di Christopher viene anche ritrovata, è stata abbandonata, privata della targa. Si presume quindi che l'assassino stia viaggiando proprio con l'automobile di Terry. I detective dispongono della descrizione dell'auto e del numero di targa, ma Christopher ha un vantaggio, perché loro non sanno affatto dove sia diretto. E infatti il 29 marzo Christopher si trova già in Colorado, nel parcheggio di un centro commerciale, quando vede la diciottenne Cheryl Buonaventura. La bella adolescente bionda, che ha già fatto la modella, viene vista chiacchierare con Christopher Wilder. Anche lei sale nella sua macchina, lasciando il proprio veicolo chiuso nel parcheggio. Con lei però Christopher attua un comportamento che differisce da quello adottato nei confronti delle altre vittime. Infatti lui e Cheryl vengono visti cenare a Silverton. In questa occasione riferiscono al personale del locale, che sono diretti a Las Vegas. Nello stesso giorno Christopher prende una stanza in un motel a Page, in Arizona. Due giorni dopo, il 31 marzo, Christopher torna nello Utah, dove aveva pugnalato Cheryl Buonaventura, per poi spararle, lasciando il suo corpo vicino a un fiume. Il primo aprile l'uomo arriva a Las Vegas e non perde tempo, si dirige subito al centro commerciale, dove la dicesettenne Michelle Kaufman sta gareggiando in un concorso per modelle, per aggiudicarsi la copertina della rivista Seventeen. Un altro fotografo scatta una foto di Christopher, che osserva Michelle intensamente, con un ampio sorriso sul volto. I testimoni ricordano che la ragazza si è allontanata con lui. Durante quel giorno Christopher ha avvicinato anche altre donne, che hanno accettato di incontrarlo, ma alla fine lui non si è presentato all'appuntamento. L'auto di Michelle viene trovata nel parcheggio del centro commerciale, ma della ragazza non c'è alcuna traccia. Non si sa esattamente quando Christopher abbia ucciso Michelle Kaufman, ma abbandona il suo corpo vicino a un'area di sosta presso la Angeles National Forest, nel sud della California. Arriviamo al 4 aprile del 1982. Christopher nota la sedicenne Tina Risico in un centro commerciale a nord di Torrance, in California. Tina esce da un negozio dove ha appena compilato il modulo per una candidatura di lavoro, così Christopher le si avvicina e le dice che sta cercando delle modelle per un cartellone pubblicitario. Le offre 100 dollari per posare per lui e anche Tina accetta. La conduce lontano dal centro commerciale, le mostra alcuni suoi scatti, le fa qualche foto, ma quando Tina gli dice che si è fatto tardi e deve tornare a casa, Christopher si arrabbia, tanto da puntarle contro una pistola. La minaccia, dopodiché la lega, la mette sull'auto e guida appena fuori San Diego, non lontano dal confine messicano. Ha già prenotato una stanza in un motel. Appena entra in camera, lega Tina al letto e l'aggredisce. Tuttavia, non la uccide. Tina aveva vissuto un'infanzia problematica e aveva già subito un'aggressione intima. Forse si comporta in modo diverso rispetto alle altre vittime. Non urla, non va in panico, quindi Christopher non avverte la necessità di ucciderla. Anzi, siccome la ritiene tra virgolette abbastanza robotica, è convinto che potrebbe dargli una mano per addescare nuove vittime, così la obbliga a tagliarsi i capelli. La scomparsa di Tina viene denunciata quasi immediatamente. Il direttore del negozio che ha accolto la sua candidatura ha anche notato Christopher che bighellonava lì fuori. Il manager lo identifica grazie a una foto segnaletica. Ormai l'immagine di Christopher e il resoconto delle sue azioni vengono diffusi sia in televisione che sui giornali. L'FBI lo inserisce nell'elenco dei dieci criminali più ricercati. E Christopher a questo punto sa che deve lasciare la California, quindi si sposta con Tina a Merrillville, nell'Indiana, dove individuano Donet Wilt. Donet ha 16 anni e anche lei sta compilando una domanda di lavoro per un negozio di un centro commerciale. Tina le si avvicina, si presenta come Tina Marie Wilder e la convince ad allontanarsi con lei. La porta verso la macchina di Christopher che ha con sé una pistola ed è pronto a usarla qualora le cose si mettano male. Donet entra nella macchina di Christopher e lui la salta. Usa del nastro adesivo per coprirle gli occhi e la bocca. La aggredisce ripetutamente sul sedile posteriore mentre Tina guida verso l'ohaio. Il trio si ferma qui per la notte. Christopher continua a terrorizzare Donet, la tortura con l'elettrocuzione e fa violenza su di lei. Il giorno dopo ripartono per poi fermarsi nei prezzi delle cascate del Niagara. Quella notte Donet viene nuovamente aggredita più volte. Christopher minaccia entrambe le ragazze. Se avessero tentato di urlare o di scappare, le avrebbe uccise. Poi l'uomo si imbatte in un appello in televisione, rilasciato proprio dalla madre di Tina. Allarmato dunque decide di ripartire immediatamente e ordina a Tina di guidare fino a Penny Yen nella contea di Yates. Il rapitore e le sue vittime si fermano nei pressi di alcuni boschi. Christopher obbliga Donet ad addentrarsi con lui tra le frasche dove prova a soffocarla. La ragazza però si dimena, lotta per tentare di salvarsi. Allora Christopher la pugnala per due volte. Donet si finge morta e riesce a ingannarlo, così Christopher torna alla macchina e ordina a Tina di ripartire. Appena sola, la sedicenne si trascina fino al ciglio della strada. Per fortuna, un'automobilista di passaggio la vede e chiama i soccorsi. Donet riferisce alla polizia che Christopher è diretto verso il confine canadese e che è sicuro di farla franca. Ha detto a lei e a Tina che non sarebbero riusciti a prenderlo vivo. Diverse volte, infatti, le autorità arrivano in un motel o in un ristorante in cui si trovava in precedenza, poche ore dopo la sua partenza. Christopher rubava targhe e guidava in direzioni irregolari, diventando quindi estremamente difficili da prevedere. L'uomo in ogni caso non demorde, è ancora a caccia di vittime. Il 12 aprile 1984, in un centro commerciale di Victor, New York, posa gli occhi sulla trentenne Beth Dodge. Così chiede a Tina di convincere la donna a incamminarsi con lei verso la sua macchina. Quando Beth è abbastanza vicina, Christopher in qualche modo riesce a prenderle le chiavi della sua auto dalle mani e la costringe a salire sul suo veicolo. Dopo un breve viaggio, Christopher si ferma in una cava di ghiaia deserta, fa scendere Beth dal veicolo e le spara due volte alla schiena. Scarica il suo corpo, poi risale in macchina e ordina a Tina di guidare fino all'aeroporto di Boston. Finalmente, dopo nove giorni strazianti, compra per lei un biglietto aereo per Los Angeles e la lascia libera. Tuttavia, Tina è preoccupata e convinta che in realtà Christopher non la lascerà andare via così facilmente. Magari le sparerà la schiena. E invece la ragazza riesce a salire sull'aereo. Quando atterra Los Angeles, Tina prende un taxi e si dirige presso una boutique dove acquista della lingerie con i soldi che le aveva dato Christopher. Spiega tra l'altro all'addetto che Christopher Wilder le aveva tagliato i capelli e viene notata da un gruppo di amici che la porta alla polizia. Tina sfiega agli agenti che Christopher vuole restare da solo perché sa che sarebbe morto. In realtà però i suoi piani sembrano diversi. Christopher, dopo aver lasciato andare Tina, si dirige nuovamente verso il Canada. Venerdì 13 aprile tenta di rapire un'altra vittima, una ragazza di 19 anni che ha l'auto in panne sul ciglio della strada. Christopher si offre di darle un passaggio fino a una stazione di servizio. La ragazza accetta ma presto si rende conto che quell'uomo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Capisce dunque che ha cattive intenzioni, spalanca la portiera e riesce a saltare fuori dall'auto. Christopher a questo punto è preoccupato, quindi si libera di tutti i suoi averi, compresa la macchina fotografica e gli oggetti delle sue vittime che aveva tenuto con sé. Poi guida fino ad arrivare nel New Hampshire. Si ferma a Colbrook, presso una stazione di servizio dove due poliziotti statali lo individuano. Quell'uomo assomiglia parecchio al ricercato che riempie i manifesti dell'FBI, anche se si è tagliato la barba. I poliziotti quindi lo chiamano, ma Christopher sbuffa e tira fuori la pistola, sempre a portata di mano. Ne segue una collutazione, risuonano due colpi di pistola. Il poliziotto Leo Jellinson, che era saltato alla schiena di Christopher per tentare di disarmarlo, è stato colpito al petto. L'altro colpo ha preso in pieno il cuore di Christopher, ponendo fine alla sua follia omicida e alla caccia all'uomo, durata 26 giorni. Nell'auto di Christopher vengono trovati dei rotoli di nastro adesivo, delle manette, una corda, un cavo elettrico, un sacco a pelo, la carta di credito del suo ex socio in affari e una copia del libro The Collector, scritto da John Fowles. Ebbene, questa è la storia di un uomo che cattura una bella ragazza e la imprigiona nella sua cantina. È convinto che trattandola bene, alla fine conquisterà il suo amore e la sua lealtà. Christopher era ossessionato dal libro The Collector, conosceva le pagine a memoria. Il corpo di Christopher a questo punto viene riportato in Florida, dove viene cremato. Molte domande però rimangono irrisolte. Christopher Wilder si è suicidato o è stato ammazzato da un agente? Non è chiaro. Stava cercando di scappare? Dove sono finite le vittime che ancora non sono state trovate? Ma soprattutto, qual è il numero reale di queste vittime? Il 3 maggio 1984 il corpo di Cheryl Bonaventura viene scoperto sotto un albero nello Utah. L'11 maggio 1984 viene rinvenuto il cadavere di Michelle Kaufman in decomposizione. Infatti occorrerà un mese per ottenere un'identificazione certa. Christopher è morto, ma in banca ci sono ancora molti dei suoi soldi, circa 7 milioni di dollari. Nel 1986 il tribunale stabilisce che il suo denaro verrà ripartito tra le famiglie delle vittime. I corpi di Rosario Gonzales e Elizabeth Kenyon non sono mai stati trovati. Nel corso degli anni il nome di Christopher Wilder è stato collegato ai casi di altre donne scomparse e assassinate. Purtroppo è impossibile accertare di quante sparizioni o omicidi sia responsabile. Molti criminologi credono che l'assassino si sia tolto la vita durante quella collutazione, valutando il suicidio come una prospettiva migliore, piuttosto che affrontare il carcere e o la pena di morte. In sintesi sarebbe stato guidato da un'esplosione di violenza culminata nell'autoeliminazione. Altri credono che Christopher Wilder volesse sparare alla polizia e fuggire. Le dichiarazioni di Tina Risico indicano che Christopher sapeva che gli ultimi granelli di libertà stavano per raggiungere il fondo della clessidra, dunque voleva quantomeno scegliere da solo come mettere fine alla sua storia. La sua morte, pur evitando un processo pubblico, ha però impedito ai genitori delle vittime di sapere cosa fosse successo esattamente alle proprie figlie. Insomma, sono condannata a domandarsi per sempre se gli agenti avessero catturato in vita Christopher. Lui avrebbe parlato? Avrebbe confessato? Avrebbe spiegato? La verità è che Christopher Wilder resterà per sempre un grande enigma. È certo che riusciva ad attirare abilmente le sue vittime, dunque si presume che fosse una persona molto intelligente. Era sensibile al fascino delle belle donne, comportamento che gli è valso l'appellativo l'assassino delle reginette di bellezza. Christopher in quei 26 giorni di fuga ha macinato tanti chilometri, sapeva che le autorità erano sulle sue tracce e agiva come un assassino nomade imprevedibile. Di certo Christopher non rappresenta il classico serial, anche perché il suo modo superandi non è mai stato chiaro. Christopher ha picchiato, torturato, strangolato, sparato e pugnalato le sue vittime. Tuttavia, alcuni psicologi non ritengono atipico che i serial esprimano diverse personalità. Secondo il dottor Al C. Carlyle, Wilder mostrava un lato buono che ingannava le persone, poi un lato cattivo che le danneggiava. Era stato in grado di mantenere, almeno in pubblico, la reputazione di cittadino onesto che gestiva un'attività di successo, anche se da sempre assecondava le sue fantasie più torbide e oscure. Man mano che la vita o le persone gli apparivano più deludenti, le fantasie di Wilder diventavano più violente. Ma Christopher aveva addirittura lasciato andare una delle sue vittime, ossia Tina. Le aveva risparmiate e non solo, le aveva anche dato dei soldi e le aveva fatto prendere un aereo per tornare a casa. Perché? Come mai ha dimostrato una sorta di compassione per una vittima soltanto? Era stato così brutale e crudele con tutte le altre? La risposta a questo quesito la conosceva solo e soltanto Christopher Wilder, ammesso che fosse capace di inquadrare la situazione. Da alcune fonti ho appreso che Christopher aveva persino una ragazza che non riusciva a credere alle accuse contro di lui, sebbene ricordasse diversi episodi strani. Una volta Christopher le aveva ordinato di lasciare la sua casa, temendo che potesse farle del male. Un'altra volta nel risvegliarsi lei lo aveva trovato ai piedi del letto, ma lui affermava di non sapere come ci fosse finito. Le diceva poi che il suo hobby fotografico era come una malattia, era costretto a coltivarlo. C'è una domanda in conclusione che mi sono posta più volte. Quando Christopher è stato costretto a sottoporsi al trattamento dell'elettroshock, è successo qualcosa che ha rafforzato in lui l'associazione tra desiderio intimo e violenza? Voi, che ne pensate? Io ho finito di parlare in questo video e come al solito vi chiedo ovviamente di farmi sapere cosa ne pensate di questo caso nei commenti. Io vi leggo sempre con molta molta attenzione, quindi come al solito ci vediamo nei commenti, ci becchiamo lì. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!